Ciao a tutti amici collezionisti, benvenuti o bentornati nel canale, oggi direttamente da Starzinger, prodotti dalla Action Toys, abbiamo qui con noi lo Starcrow con Jan Kog. Starzinger, per esteso science fiction Sayuki Starzinger, debutta in Giappone il 2 aprile del 78 per poi arrivare da noi nell'81, riscuotendo anche un notevole successo. Nel 78 Starzinger rompe in qualche modo quel tradizionale appuntamento pomeridiano fatto di robottoni come Mazinga Zeta, Grande Mazinga, Goldrake, eccetera, dimostrando come i tempi e i gusti del giovane pubblico giapponese di allora stavano già cambiando. La trama, detta in maniera molto riassuntiva, racconta il viaggio della principessa Aurora verso il grande pianeta, ve la ricordate la sigla come faceva, no? Per diventarne la nuova regina e ripristinare così l'energia galattica che a causa dell'anzianità della vecchia regina si stava indebolendo. Ma tutto questo non sarà così semplice, infatti durante questo percorso dovrà affrontare numerosi nemici che si paleseranno di volta in volta, ma in questo compito verrà affiancata da tre valorosissimi cyborg che la proteggeranno a costo della loro stessa vita. Oggi qui con noi abbiamo il primo di loro, nonché il leader dei tre cyborg, Ian Cooke, insieme al suo star crew. Finalmente, dopo anni, anni e anni, la Action Toys, questa casa giapponese, ci regala il primo dei suoi 3 cyborg, in chiave ovviamente moderna, attualizzata. Sappiamo benissimo che, o perlomeno se non lo sapete ve lo dico io, di Starzinger, prima di questo non era stato fatto altro che i popi Bandai importati successivamente poi da noi, intorno ai remodi ormai anni Ottanta, da Ceppiratti. Quest'ultimi hanno raggiunto un valore elevatissimo, vi basti vedere su ebay ogni pezzo gira intorno ai 7-800 euro, quindi insomma sono abbastanza inavvicinabili. Questi, lui, così come gli altri due che dovranno uscire, io li ho preordinati, quindi diciamo che ce la siamo cavata con circa 500 euro per tutti e tre i pezzi, ma già questo, ora, non si trova più ovviamente al prezzo di preordine, ma non stiamo al triplo del suo prezzo di preordine, ma stiamo lì e sarà destinato a, sicuramente a crescere, perché i Starzinger si contano sulle dita di una mano. Adesso, ragazzi, bando alle ciance, io questo l'ho già aperto perché non stavo nella pelle, appena mi è arrivato l'ho dovuto aprire, controllare, odorare e godere un po' per conto mio di questa meraviglia che aspettavo veramente da tanto tempo. Però, comunque, l'ho rimesso nella scatola proprio come l'ho tirato fuori, così vi faccio vedere anche un unboxing, vi faccio vedere come è contenuto all'interno del suo box che, mentre chiacchieravo, prima vi ho fatto girellare un po', così avete già visto a grandi linee anche com'è il retro della confezione. Comunque, ci fermiamo un attimo qui. Vedete le due modalità dello StarCrow, normale e allungato per alloggiare poi dopo sopra i Hankook, che come sapete ha i piedi magnetici, quindi si regge sullo StarCrow grazie a dei magneti e qui altre due foto. C'è anche un bel display stand che adesso vediamo. Comunque, apriamo questa scatola e andiamo a vedere il contenuto. polistirolo, ovviamente. Facciamo piano. Ecco qua. Mettiamo qui. Qui abbiamo delle istruzioni su come alloggiare Hankook sopra l'astronave, come allungare l'astronave, ma è semplicissimo e come mettere il display stand. Apriamo qui la parte superiore qui, come vedete, in stile Poppy come ci ha abituato anche la Bandai con i suoi Soul of Chokokin e molte altre case che producono robot. Questa è una cosa adesso ormai abbastanza ricorrente, vedere questa vetrina stile vintage carina comunque. Allora, qui abbiamo la canopy dello StarCrow che viene separata. Abbiamo Hankook in posa statica per alloggiarlo all'interno del cockpit. Abbiamo Hankook la action figure alta alta non lo so, dopo la misuriamo ma credo attorno ai 12 cm non di più con i suoi accessori completamente articolato e poi abbiamo il pezzo forte l'astronave eccola qua bellissima bellissima l'ho tutta controllata perché recentemente giravano voci di corridoio che alcuni modelli erano stati ritirati per via di piccoli difetti di verniciatura e quant'altro io, ma forse per una volta sono stato fortunato e non ho riscontrato niente di tutto questo questi sono semplicemente i pelucchi di polistirolo se vedete qualche ciuffetto bianco non è altro che il polistirolo eccolo qua è pesante molto pesante per la grandezza che ha come vedete non è eccessivamente grande gli diamo una misurata adesso un attimo eccoci sistemiamo un po' la camera e stiamo in questa modalità sui 20 cm scarsi adesso voi avete un'angolazione un po' strana rispetto a come effettivamente è posizionato il modello comunque si dai 19 cm circa quindi non è eccessivamente grande però il metallo c'è si sente e quindi direi un ottimo compromesso tra peso e e e grandezza e guardate da voi la ottima verniciatura qui ovviamente sarà molto soggetta alle ditate si ci rimangono vabbè poi lo puliremo e non lo toccheremo più qui ci sono dei pezzi abbastanza delicati come queste due questi due alettoni qui che sono in plastico ovviamente tutte queste parti sporgenti dovete fare attenzione perché ovvio che sono delicate ok carino il cockpit guardate con il radar ve lo ricordate lì all'interno del cruscotto al centro del cruscotto con qualche tasto colorato le due impugnature il sedile ha anche fatto molto bene qui c'è credo il primo magnete quello dove eh jankuk posa il piede vedete anche il retro con i reattori vi faccio vedere anche la parte sotto e dettagli qui del simbolo questo si apre cioè si trasforma in questo modo si fa slittare questa parte qua sotto qui c'è una pellicola di protezione e si fa ruotare in questo modo e eccolo e abbiamo l'astronave allungata e qui arriviamo a 23 cm ai reattori ovviamente e questa sarà la pedana dove poggerà il nostro jankuk ok allora mettiamo momentaneamente qui il nostro star crove ah innanzitutto mettiamo qui la canopy che me l'ero già dimenticata questa si aggancio no prima di fare questo aspetta mettiamoci il nostro jankuk nella sua posa statica ve lo faccio vedere al volo da vicino fatto molto bene è fatto in pvc morbido comunque i dettagli ci sono colorato bene e nini qualcosina c'è qua e là di sbavatura ma vabbè vedete qua per esempio non è così precisa la linea tra i colori comunque niente di di eclatante voglio dire e questo lo possiamo mettere all'interno dell'abitacolo sicuramente possiamo anche fargli impugnare qui le i comandi ma adesso non lo sto a fare mettiamo la copertura eccolo qua bello 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 non potete capire che gioia avere in mano una roba del genere io non ho mai avuto nulla di star zinger mai avuto nulla e è un cartone animato che amavo amavo ma anche più di qualsiasi altro cartone animato a tema robotico e io nonostante sia un fan sfegatato del grande mazinga però se devo scegliere il cartone animato che mi è piaciuto di più qui c'era una storia già un po' un po' più diversa forse un po' più c'era quel velo di tristezza io ricordo che a volte vedevo questo cartone animato c'erano dei momenti in cui piangevo mi ricordo che piangevo ero bambino è chiaro ero molto piccolo avevo avuto 11 12 anni forse non lo so ma c'erano degli episodi in cui mi veniva da piangere quindi mi ha lasciato un segno ti lasciava qualcosa che magari questi cartoni animati un po' più a tema robotico non non facevano erano più action e basta non è che c'era una una trama dietro ad ogni episodio una storia un qualcosa che insomma in qualche modo ti toccava usciva e arrivava il nemico usciva il robot facevano schiaffi e finiva la insomma e in star zinger era tutto diverso allora abbiamo visto anche i han kug per l'abitacolo vediamo la figure allora abbiamo intanto due mani aggiuntive il giavellotto che vediamo subito ti pinto abbastanza bene plastica leggerissima qui ho già un po più paura a manovrare il tutto perché ho percepito già una sorta di fragilità nei materiali e quest'idea me l'ha data anche prima l'action figure quando l'ho l'ho sballato la prima volta comunque eccolo è molto leggero ovviamente qui dovete dovete fare attenzione ragazzi ai perni non non ci andate troppo con la mano pesante quando andate a comunque ad articolare il modello fate molta attenzione fatelo piano per esempio io quando l'ho tirato fuori dal box e sono andato a controllarlo ho visto che i piedi erano molto 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 rigidi quindi questo si traduce in rotture dietro l'angolo quindi non ci andate con la mano pesante se trovate dei punti un po più rigidi ma scaldate un 15 secondi con il phon da lontano ovviamente se no bruciate tutto la plastica in questo modo si ammorbidisce e sblocca l'articolazione bloccata adesso come potete vedere i piedi si spostano tranquillamente in ogni direzione essendo loro su ball joint ok ecco per esempio prima questo movimento non lo faceva io andavo qui ma non si muoveva di un millimetro e quando è così c'è il rischio che si possa spezzare il perno per il resto le articolazioni eccole qua abbiamo il ginocchio abbiamo quest'ottima articolazione qui all'anca che come vedete c'è il perno che slitta in basso per dar modo alla gamba di vedete di alzarsi in questo modo insomma di assumere diverse pose abbastanza dinamiche soprattutto per metterlo in posa sopra lo star crove immagino insomma sia stata fatta questa roba qui intorno alle gambe poi abbiamo la rotazione qui al busto la testa gira le braccia dunque vediamo qui questi spallacci sono incollati sono un pezzo unico con l'armatura c'è qui una giunzione in gomma morbida il che ci fa capire che possiamo stare tranquilli con l'alzata laterale del braccio perché lì come dicevo c'è la linguetta in gomma ma non andate più di così non andate più di così perché ho paura che si spezzi anche quello braccio in avanti fin qui indietro rotazione qui al bicipite piegamento del gomito e la mano ruota vedete e chiude all'interno e all'esterno attraverso questo perno quindi diciamo che per quello che è le articolazioni abbiamo anche vedete il busto che fa di questo anche lateralmente quindi devo dire che in quanto a posabilità non è affatto male allora adesso vediamo un attimino di prendere il display stand che è rimasto ancora sotto la scatola viate pazienza eccoci di ritorno allora sotto la confezione qui in polistirolo qui sotto vedete c'è un vano tondo c'è questo display stand con queste quattro sezioni dove poter mettere appunto in esposizione il nostro star crove quindi questo andrà messo così scusate scegliete poi voi dove posizionarlo lo potete mettere più spostato verso il davanti al centro più indietro come volete voi io penso che per equilibrare il tutto la posizione migliore forse sarà il il centro allora intanto vediamo come va messo qui ci viene indicato questo allora questa è la parte anteriore e quindi ok parte più fine davanti parte più grande dietro quindi così ora direi di metterlo qui che dite forse forse più avanti perché dietro sporge parecchio se mettiamolo qua ok ok e questo potete orientarlo come come più vi piace posa di lancio o più in avanti ok quindi fatto questo abbiamo il nostro star crow sul display stand bello e non ci resta che metterci sopra il nostro iancu che non abbiamo misurato prima è prima che me ne dimentichi diamo un attimo di dargli una misuratina avevamo detto 12 centimetri forse mi sono allargato 11 centimetri e come vedete è magnetico il piede mi ha acchiappato il metro ok ci sono dei buoni magneti andiamo a vedere questi magneti allora adesso senza che so a sostituire le mani perché un'operazione un po delicata come detto prima la voglio fare lontano dalla telecamera perché poi non riesco a vedere bene dove vado a parare e non voglio assolutamente rompere nulla questi perni bisogna farci molta attenzione ma non per inserire questa quanto per sfilare queste ora ci provo piano piano è ok non ci sono problemi andate tranquilli con questi e lo so ragazzi qui il cagotto e dietro l'angolo è ripeto sono materiali molto delicati questo poi essendo fatto in plastica dura per mantenere la posa perché se l'avessero fatto in pvc morbido ogni due o tre lo ritrovavamo piegato soprattutto in estate però questo fa sì che diventa molto delicato anche questo ma a quanto pare le dita della mano sono in gomma quindi sembra che insomma non ci siano problemi allora cerchiamo di dargli una posa al nostro yankoog e poi ci ritroveremo qui con il nostro yankoog sopra lo star crew eccoci qua guardate un po cosa ne pensate io trovo sia fantastico tiene perfettamente la posa sopra plastronate come dicevo i magneti sono molto forti poi lui è leggerissimo quindi non ha nessun tipo di problema con la stabilità bellissimo 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 bene amici io non aggiungerei altro non c'è altro da aggiungere adesso gli vado a trovare immediatamente uno spazio in vetrina non vedo l'ora che arrivino anche gli altri spero non ci facciano aspettare troppo lo star cooper di sir gorgo e lo star bud di don h se li ho pronunciati bene non me lo ricordo sinceramente l'ho buttata un po la spero facciano anche la queen cosmos della principessa aurora e perché no anche lei sarebbe una veramente una cosa fantastica comunque mi ero dimenticato di farvi vedere una cosa qui qui ci sono dei missili dove vanno questi li ho visti adesso mentre dunque fatemi vedere questi missili parte che non li staccherò mai da da dove li avete appena visti perché non mi interessa assolutamente farlo però a sto punto non lo so immagino vadano qui e penso proprio di sì non saprei trovargli altra locazione non ci interessa comunque niente ragazzi io vi saluto vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino alla fine del video noi ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un like se vi è piaciuto il video commentate 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 alla prossima bye bye